Non solo stelle, parliamo di uno spettacolo per beneficenza che si terrà a pescare, uno spettacolo per Telefono Amico. Telefono Amico è un servizio che abbiamo messo su noi di Rete Sicurezza Solidale. Siamo degli ex appartenenti alle forze dell'ordine, degli associati che hanno operato nel sociale o che intendano farlo. L'abbiamo messo su per stare vicino alle persone che sono sole e che spesso sono afflitte da problematiche varie e non sanno a chi rivolgersi in quest'era moderna. Abbiamo messo su uno spettacolo di qualità curato da Viviana Bazzani che è un vero motore propulsivo di queste organizzazioni, essendo un attore, un ex appartenente alla Polizia di Stato, ha fondato l'ufficio Minori nel 1995 a Pescara. Ho accettato con grande piacere essere testimonial del Telefono Amico. Il Telefono Amico è un telefono molto particolare, soprattutto quando nasce nelle province. Perché? Lo spiego semplicemente perché la gente nelle province si conosce, soprattutto le donne maltrattate, soprattutto magari i minori che subiscono violenza e c'è un certo timore di andare in determinati uffici. Il Telefono Amico è anonimo, permette in qualche modo a queste persone di chiamare, di parlare con persone competenti, le quali cercheranno lentamente, con grande esperienza psicologica, di consigliare al meglio queste persone. Ovviamente il Telefono Amico non vuole togliere professionalità, lavoro, ad altre associazioni, allo sportello antiviolenza che fanno un ottimo lavoro, però è un grande aiuto, credetemi.